Martedì 31 ottobre 2023 è iniziata la seconda stagione di Boomerissima. Mix di varietà e game show. Ascolti buoni. 873.000 spettatori 6% di share. Considerando che il prime time di Rai 2 è assai ostico, il format ha il suo perché. Nonostante qualche sbavatura. Senza dubbio il tocco in più lo dà Alessia Marcuzzi. Veterana del piccolo schermo italiano che ha saputo reinventarsi in Rai dopo l'addio a Mediaset. I reality l'avevano stufata e ha deciso. Con coraggio. Di cambiare aria e rimettersi nella tv di stato si sente più protetta. Lo ha raccontato lei stessa di recente. Un amore reciproco con mamma Rai. Tanto che si vocifera che la 50enne romana. Molto probabilmente. Sarà arruolata da Amadeus per una parte da protagonista per il prossimo. Per quel che riguarda la conduzione di Bumerissima. Alessia è spigliata e familiare al punto giusto. E soprattutto si diverte come se fosse a casa sua. E quando un conduttore si diverte sul serio. È più empatico e. Arriva. Di più a chi è seduto sul serio. Non si scoprono poi oggi le qualità della Marcuzzi presentatrice e autrice. Esatto. Per chi non lo sapesse Bumerissima lo ha pure ideato assieme a Clarita Ialongo. Fabrizio Biggio. Leonardo Gasparotto. Sabrina Giovannelli. Ermanno Labianca. Max Novaresi. Valerio Palmieri e Lutasto Dolente. Tommaso Zorzi. Nella primavera 2021. L'influencer milanese trionfava meritatamente al grande fratello Vip 5. Un. Enfant prodige. Della tv italiana. Così fu descritto da molti. Attorno a lui si crearono parecchie aspettative. Anche perché si vedeva che tuttavia. Da allora ad oggi. Pure per una serie di scelte professionali forse troppo azzardate. Come quella di accettare la mini conduzione del punto Z. Rubrica. Horribilis dell'isola dei famosi. Ha avuto una parabola discendente.